Salve a tutti, per chi mi segue già mi conosce, ma per i nuovi sono Andrea e vi consiglio di iniziare dal primo video riguardo Death Advance. Siamo giunti al penultimo livello, il sesto, e una volta completato il settimo potremo sbloccare il secondo capitolo. Per l'ottavo livello ne parlerò al prossimo video. In questo livello inizieremo subito con la Fire Tower, posizionandola sopra la nostra base. Accumuliamo altri pochi punti di energia per fare la nostra seconda torretta vicino alla base. Inizieremo questo livello dovrà essere fatto in due tempi, basta finirlo con un qualsiasi punteggio per poter sbloccare la nuova torretta difensiva. Ripetiamo il livello di nuovo e questa volta lo finiremo al 100%. inizieremo 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 au Grazie a tutti. 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 Finita la missione potremo sbloccare la laser tower e rifacendo il livello questa volta si potrà finire al 100%. Ma forse con un po' di strategia e astuzia si poteva finire il livello anche senza l'ausilio di questa torretta. Facciamo le prime ondata come prima ma arrivati alla sesta ondata posizioniamo prima la frost tower e poi la fire tower per poi posizionare la nuova torretta difensiva da laser tower. Grazie a tutti. Ecco qui la laser tower questa torretta ha la capacità di colpire tre creature contemporaneamente. prendiamo la machine gun tower per posizionare la laser tower e poi la frost tower. Grazie a tutti. 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 E anche questo livello è stato completato. Grazie ancora per tutti coloro che mi seguono e come sempre ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.